Naturalmente è la partita domani, è la partita che in caso di vittoria credo che al 99% ci farebbe entrare nella griglia pre-off. Quindi è una partita assolutamente da giocare in maniera ottimale sotto tutti gli aspetti in qualsiasi momento di gara, essere bravi nella lettura soprattutto dei momenti perché sappiamo dell'importanza innanzitutto della gara ma anche di affrontare una squadra che naturalmente ha ancora un obiettivo importante anche per loro da raggiungere e quindi naturalmente ci sarà grande battaglia in campo. Naturalmente giocando in casa e venendo comunque da due risultati importanti che hanno ridato ai ragazzi quel giusto entusiasmo e quella giusta consapevolezza di poter essere comunque noi gli artefici del nostro destino. Insomma dipende sempre da noi avendo massimo rispetto per l'avversario però domani in casa credo dovremo farci rispettare con l'aiuto del nostro pubblico che mercoledì è venuto in massa ad incitarci e domani devono essere quelli che nel momento in cui c'è da soffrire dovranno darci una grande spinta perché domani come ho detto all'inizio è la partita. No no è così è stata una costante però domani dovremo sovvertire quello che è stato poi l'andamento di questo campionato ed essendo la partita che ci aprirebbe come ho detto la strada per i playoff al di là delle difficoltà dei momenti in cui ci sarà da soffrire nei momenti in cui dovremo essere bravi a ricompattarci e a non dare molte possibilità di impensierirci al Trapani naturalmente dovremmo essere come ho detto prima proprio bravi a non pensare a quello che è stato. E' importante adesso il presente, il presente si chiama Trapani e si chiama una gara per noi che come ha detto anche Annibale nella domanda di apertura potrebbe farci un attimino anche scrollare quelle che sono tutte le tensioni e le ansie di un traguardo che l'anno scorso abbiamo perso all'ultimo tuffo e che quest'anno vorremmo fortemente raggiungere. Sì anche se sai poi le partite sono sempre diverse una dall'altra quindi sappiamo che il Trapani ha fatto la maggior parte dei punti in casa fuori casa non ha avuto un andamento molto positivo ma rimane un organico soprattutto dal centro campo in su di grandissima qualità quindi con giocatori che comunque in qualsiasi momento possono inventarti la giocata vincente. E' normale che noi dobbiamo essere bravi sapendo che è una partita da vincere ma nello stesso tempo non metterci mai nelle condizioni di andare in difficoltà e di creare quegli spazi dove loro potrebbero andare a nozze sapendo che alla lunga mantenendo sempre compattezza mantenendo equilibrio la partita poi la possiamo vincere. Ormai siamo abituati negli ultimi anni non c'è più questa contemporaneità quindi credo cambi poco perché il Perugia deve comunque fare il risultato per puntellare al meglio i playoff che credo non dovrebbero sfuggirle e noi d'altro canto pur sapendo cosa ha fatto il Perugia però noi dobbiamo vincere come deve vincere il Livorno come deve vincere il Pescara quindi alla fine credo che sia superfluo questa cosa qua. Mi auguro che lo stadio sia pieno nel massimo della capienza perché abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico del calore, della spinta e come ho detto c'è stato già un accenno in settimana e quindi i ragazzi vogliono regalare comunque ai tifosi non solo una grande prestazione ma una grande vittoria e quindi di conseguenza il probabile accesso ai playoff. Per quanto riguarda i ballottaggi ce ne sono tanti quindi non solo quelli che hai detto tu e domani mattina poi come sempre deciderò. Sì è normale che è mancato Visconti perché è stato tre mesi fuori per infortunio e ultimamente si è rivisto il miglior zito che avevamo visto a sprazzi quindi di conseguenza stanno solo mettendo a frutto quelle che sono al massimo le loro potenzialità. Sì sì ma ti ripeto sono state assenze purtroppo causate da infortuni anche abbastanza grave quindi abbiamo dovuto per molte partite adattarci quindi cercare di trovare il male minore quindi giocatori che potessero dare il proprio contributo pur consapevoli di non essere messi nelle condizioni potete dare al cento per cento. Nel momento in cui sono rientrati determinati giocatori è normale uno cerca di metterli tutti nel loro posto al posto giusto nonostante ripeto sia abitante a sinistra sia Fabio quando ha giocato a Terzino insomma comunque hanno fatto sempre delle ottime gare. È normale che nella fluidità di gioco qualcosina abbiamo perso abbiamo guadagnato comunque più in concretezza e meno in bellezza sicuramente. Sì ma io penso innanzitutto alla squadra questo è sempre stato il mio primo obiettivo come credo sia normale che anche i ragazzi siano consapevoli che il raggiungimento di questo grande traguardo è una soddisfazione professionale per tutti poi di conseguenza viene la soddisfazione individuale però io come allenatore come hai detto tu una soddisfazione sarebbe una soddisfazione riuscire anno dopo anno a portare sempre qualcosina di nuovo sempre qualcosina di positivo il raggiungimento sempre di traguardi sempre più ambiziosi.